La strada di ERM di Ancona, che è un'associazione che sta lavorando in Ancona dal 2013 e che oggi ha iniziato, nei scorsi mesi, ha iniziato un progetto sull'autismo, si chiama Ancona Autismo. La nostra associazione ha iniziato due anni fa con un primo screening sulla situazione in Ancona per quanto riguarda l'età infantile e la situazione dell'autismo, facendo un'indagine con le famiglie e con i pediatri. Dopo questa prima fase di valutazione è iniziata una fase di formazione che si cerca di attuare in questo periodo in cui andiamo ad incontrare i pediatri e gli educatori negli asili nido per cercare di far conoscere quelli che sono gli indicatori importanti che fanno capire se un bambino può essere affetto da questa sindrome dell'autismo. Sabato 21 aprile alle 9.30 ci sarà un concerto appunto per beneficenza alla strada di Erme e appunto perché volevamo il ricavato, darlo in donazione a questo istituto, sembrava una causa giusta e nobile. Quindi vi aspettiamo insomma, vi aspettiamo tanti numerosi perché più siamo e meglio è, come si dice. Gran parte del ricavato andrà alla strada di Erme. Non è la prima volta che la vostra band insomma si esibisce per solidarietà? No, noi abbiamo fatto anche altri concerti, abbiamo fatto anche della beneficenza alla scuola di Arquata del Tronto portando degli strumenti ai bambini. Il ricavato di questo concerto ci servirà per attrezzare una stanza all'interno del nostro centro dove saranno utilizzate tecnologie e applicazioni specifiche per la riabilitazione della comunicazione e applicazioni che serviranno comunque per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo. Sono alleati per affrontare la malattia, sono al fianco dell'uomo in operazioni di salvataggio e di sicurezza, sono l'approdo sicuro di un rientro a casa sconinsolante, sono cura con la pet therapy. Un vecchio adagio popolare dice che chi non vuole bene gli animali forse non ha bene nemmeno per le persone. L'approccio link in arrivo da oltreoceano dà una base scientifica proprio a questo. La correlazione tra il maltrattamento degli animali e la violenza interpersonale è al centro di un corso formativo gratuito per assistenti sociali, avvocati e sociologi e chiunque voglia partecipare alla biblioteca antonelliana di Senigallia il prossimo 21 aprile. È stato organizzato dall'associazione Cambiamente Evolution in collaborazione con Link Italia per contrastare la mentalità del tanto sono solo animali. Da qualche anno a questa parte è nata Link Italia, un'associazione che si occupa proprio dello studio di questo fenomeno nell'ambito di una cultura che viene definita della zooantropologia. Tutto quello che è disfunzionale all'interno di questo legame riguarda una branca della zooantropologia che prende il nome di zooantropologia della devianza, dove l'animale diventa un oggetto su cui sfogare in maniera assolutamente errata ogni forma di violenza, aggressività. Potrebbe essere una spia di una tendenza a comportamenti violenti a livello interpersonale e quindi proprio l'espressione di una condizione esistenziale disfunzionale, patologica, disagiata, non solo come grave reato insieme, ma proprio come indice di un comportamento violento tra le persone.